benvenuti in un nuovo video sigla aspetta ma cosa facciamo? supercut oggi video reaction 5,6,7,8 e questo è il video parte trascinando oppla boom all right I got this yes vabbè il latino americano e via raga fuori I'm John Cena boh adesso la sbatterebbe raga ma son cuore basta nooo nooo vabbè ma io avrei già sboccato l'anima ahahah potreste farlo tu e Michele dai certo se me lo metto sulla testa tu ovviamente quella con i capelli fissi e qui questo lo so fare un team l'ho fatto si chi è che ve l'ha insegnato? io ahahah va bene passiamo al prossimo video ma quanti sono? BAM ahahah che male a parte che raga è vero che sembrano tutti uguali no ma è quello che entra che dici boh non l'hai visto che ti sta venendo a dorso facendo un manegger esatto comunque raga a parte di scherzi a me sembrano quattro uguali quattro fotografiati ahahah sono clonati come i nostri video perchè non abbiamo abbastanza ballerini sono quattro clonati però che sbotta 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 non pregirà dovevo dire che ci vediamo io sembrirà guarda guarda no infatti che c'è una roba lì cosa ci vuol ma lui è il fan ah l'ho già visto questo video mo gli tira un cazzotto no no guarda guarda non ce l'ho capito ohhhh uuuuuh guarda dallo schermo guarda dallo schermo che vedi meglio ohp bravissimo ma raga voi non sapete cosa fa alla fine no lo so e adesso guarda non te l'aspetti non te l'aspetti guarda guarda aspetta cosa sto facendo pazzo pazzo fuori di testa cappellino all right attacca e via un bomber ragazzi bisogna essere dei bomber nella vita old but gold ma guarda le managre si guarda lì ma cosa se c'è il noo i pantaloni io sono anche tutti stupendo no gli altri non li ho viste maane comunque guardiamo anche queste oddio oddio questi scontri no ma lui stava guardando un giro l'ha preso oddio noo Nooo ma nooo Quella proprio ho dovuto vederla tanto No c'è proprio la vergogna Qua è proprio Super Emotions Un cespuglio Chi ha messo quel cespuglio lì? Ma poi sono tutti spirati Sì 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 È vero Beh già la preview permette male Ma chi è? No 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 Nero di un produttivo Ubergogrado nazional theater E via E le parte Ubergogrado nazional theater Ragazzi improvvisamente Volevi fare una lezione di classico su cui due Che fate la musica Vai Ubergogrado nazional theater E crambatta E Develo E Ma nooo Che Tutta di faccia Si è fatto Spaccata il setto nasale Questo è quello che succede quando provi le cose a casa Che sbatti ovunque Piedi gambe Voi raccontateci le vostre esperienze Di disagio a casa Di disagi domestici Voi ballate in casa sicuro Oh Comunque tocca con i piedi per terra Quale punte? Guarda che collazzo Fuori Oh mio dio Bello questo Poi tra l'altro gli stanno facendo uno shooting Mentre Cioè vedi Ah è vero Maledita Guarda Tiene Cioè poi Altro no Però mi fa un po' senso con questi piedi E si E' anomalo C'è nel senso è troppo Quello che penso io dei troppo colori di piede E che poi guardo solo i colori di piede E non mi dimentico del tempo Finale soffre fortemente il Soffre veramente il Soffre veramente il Nooo Ma La cosa più divertente E' che anche mi chiede le soffre Nooo I'm calling you or not Oh maybe yes I feel it Uh huh Madonna che cambrè Boom E' assurdo No comunque io E' Guarda che fa Guarda che fa delle cose assurde Spaccata Guarda Guarda che roba Fenomenale Sui tacchi poi Cioè manco senza tacchi lo faccio Grandi Oh no C'è tutto super balance Comunque io mi credo Devo fare un video challenge In cui proviamo a ballare su tacchi Si vi prego ragazzi Si Fateci sapere se la cosa vi potrebbe interessare Cioè c'è la mia mascotte De che? Bebe Cioè quando dice baby Audrey Che si chiama Audrey questa bimba fantastica Lo urla Ah ma ho capito perché l'altra Sta a rubare la scena Ma infatti si Poi l'altra è Selena Gomez Comunque Tra l'altro c'è scritto tipo Un Hamilton L'altra Borri Cioè tiziana Riconosciuto La bambina Non Selena Gomez PIZEPPE 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 Video di oggi finisce qui Ci vediamo domenica prossima con altri video alle 14 merda 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 seguiteci su instagram mi raccomando tutti quanti i profili del tequano scorrono che schifo mamma mia che roba ok non so capace